Sotto sequestra è finita anche un'attività commerciale specializzata in abbigliamento e molto nota a Castelvetrano, in provincia di Trapani, territorio d'origine del superlatitante Matteo Messina Denaro. Questo e altri beni sequestrati oggi come auto di grossa cilindrata e conti correnti erano intestati al cognato del boss, Gaspare Como. Nell'inchiesta sono coinvolte però anche la moglie di quest'ultimo e sorella del boss, vice Maria Messina Denaro, e le sorelle dello stesso Como, ovvero Valentina e Giovanna. Il reato contestato è intestazione fittizia di beni con l'obiettivo di evitare le misure di prevenzione. Gaspare Como, commerciante, 45 anni, da tempo è noto alle forze dell'ordine, in quanto già sorvegliato speciale, è pregiudicato per associazione a delinquere ed estorsione. Il provvedimento di sequestro di beni è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Marsala che ha condiviso i risultati delle indagini della Direzione Investigativa Antimafia. In tutto, i beni sequestrati oggi valgono 500.000 euro.